Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale e allora partiamo subito con i titoli degli argomenti che andremo ad affrontare. Con 20 voti favorevoli, 8 astenuti e i due voti contrari del Movimento 5 Stelle è stata approvata in Consiglio regionale la legge che disciplina l'oleoturismo e l'ospitalità agrituristica, apportando delle modifiche alla legge 30 del 2003. L'atto è stato illustrato dalla Presidente della Commissione Sviluppo Economico, Ilaria Bugetti. Una proposta di legge che va ad integrare, ad arricchire il panorama e l'offerta degli agriturismi riguardo all'oleoturismo e anche all'enoturismo. In particolare si va a rivedere quelli che sono i posti letto portando a due letti aggiuntivi per accogliere nuclei familiari negli agriturismi. Si va a permettere la trasformazione di volumetrie aggiunta agli edifici esistenti, quindi là dove non ci siano opere di urbanizzazione primaria da fare, quindi dando una mano alle attività agrituristiche. A consentire la somministrazione di cibi caldi per la degustazione dei prodotti tipici e a consentire anche la promozione di eventi sociali e di eventi di qualsiasi tipo nelle pertinenze e nella disponibilità delle singole aziende della Toscana. Recependo quindi quella che è un'attività importante per la nostra gastronomia ma anche per il nostro turismo. La pandemia ci ha sicuramente offerto e arricchito questa immagine del turismo toscano che è un turismo slow che va a valorizzare la ricchezza delle nostre colline e dei nostri territori. Questa legge in qualche modo va ancora e va incontro a quelle che sono le nuove esperienze e soprattutto va a regolamentare come si disciplina l'olioturismo, quindi pensiamo che dalla Regione Toscana arrivi un pezzo in più che sicuramente migliora il nostro patrimonio agro e turistico. È stata approvata una legge, la 79, che in qualche modo favorisce l'attività agrituristica e l'olioturismo. Noi ci siamo astenuti perché comunque non ravvediamo nella legge alcuni caratteri di legittimità e ovviamente abbiamo cercato di renderla tale con un emendamento in particolare all'articolo 7 che poi era sostanzialmente la nostra proposta di legge che constava solo di un articolo e che partiva da un presupposto, il presupposto che l'agricoltura è in crisi, il delta di guadagno per un agricoltore tra ciò che spende e ciò che incassa è veramente risibile per cui l'attività agrituristica collegata all'attività agricola era sicuramente un qualche cosa da fare e da svolgere. Il Partito Democratico ha fatto una legge che sostanzialmente ricalca nelle more quella che era stata la nostra e che appunto era precedente alla loro. L'hanno ampliata e concettualmente se verrà mantenuta potrà dare delle boccate di ossigeno agli agricoltori. Abbiamo però alcuni dubbi sulla legittimità legale di questa. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato anche due proposte di deliberazione dando così il definitivo via libera ai progetti di paesaggio per il Prato Magno e Capraia al fine di favorire lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione e la riqualificazione di questi territori. Sono stati approvati due progetti del paesaggio, progetti del paesaggio che hanno visto coinvolte le amministrazioni per quanto riguarda il Prato Magno nella valorizzazione di tutto quello che è il turismo lento, quindi le ciclovie, i cammini. Attraverso una concertazione che c'è stata con le amministrazioni comunali siamo addivenuti a un progetto che dovrà ora essere messo a terra e quindi dare opportunità turistiche. Anche per l'isola di Capraia è stato molto importante, lì si prevedono anche recuperi di edifici nell'ex zona della colonia carceraria e è stato importante perché solo attraverso questi accordi con le amministrazioni è possibile rendere questi luoghi fruibili e fruibili soprattutto in ordine al cambiamento che questa purtroppo che il covid e la pandemia ha portato anche nella nostra regione di una visione turistica un po' diversa. Il mordi e fuggi c'è sempre nelle grandi città però nei territori lontani dalle grandi città quindi ci è data la possibilità, questo ci ha detto insomma il covid, che le persone vanno volentieri in campagna, ci vanno anche con mezzi diversi, con mezzi più lenti, amano fare i cammini e amano andare nei luoghi anche per riposarsi forse un po' lontano da quella confusione che ci attanaglia sempre un po' troppo. I due piani del paesaggio noi ci siamo astenuti perché abbiamo apprezzato alcuni aspetti positivi di proposta, di recupero, di valorizzazione dei percorsi, dei cammini, mi riferisco in particolar modo al territorio del Prato Magno che ricomprende otto comuni, mentre per quanto riguarda Capraia c'è un unico comune con una valorizzazione molto forte dal punto di vista turistico riscettivo dell'ex carcere che si trova in una posizione alta per chi conosce l'isola rispetto al mare. L'unica controindicazione è che su indicazione della sovrintendenza è stata bocciata la possibilità di realizzare nuove piscine sull'isola, una limitazione che secondo noi dovrebbe essere ripensata perché naturalmente nessuno pensa di inserire macchie blu sopra la collina di Capraia ma certamente oggi ci sono gli strumenti per renderle assolutamente compatibili con il paesaggio e per dare un servizio in più a maggior ragione se si vogliono recuperare le strutture dell'ex carcere che distano centinaia di metri con anche un andamento molto scosceso rispetto alla costa. Quindi anche in questo caso ci siamo astenuti perché ci sono state anche altre osservazioni in realtà non accolte dagli uffici tecnici della regione sulle quali abbiamo qualche perplessità in attesa che i comuni recepiscano i contenuti dei piani. Tra i temi all'ordine del giorno il Consiglio regionale ha affrontato anche quello relativo al bilancio previsionale 2022-2024 dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario esprimendo parere favorevole. Abbiamo dato parere positivo al bilancio previsionale 2022-2024 dell'azienda regionale per il diritto allo studio. È un'azienda delicata che ha svolto un compito importante fortemente messo alla prova dalla pandemia che ha aumentato i costi per la pulizia, per la cura e l'igienizzazione delle residenze universitarie e allo stesso tempo ha creato numerose difficoltà. Al momento ci troviamo in una condizione per la quale la Giunta ha effettuato minori stanziamenti all'azienda per il diritto allo studio dato che ha preoccupato gli studenti generando un po' di fibrillazione. Con gli atti che abbiamo approvato abbiamo avuto garanzie dalla Giunta che le somme al momento non attribuite a DSU verranno reintegrate nel corso del 2023-2024 sul pluriennale e abbiamo anche con l'ordine del giorno collegato al parere chiesto di poter monitorare in quinta commissione che davvero questo avvenga e quali saranno i tempi di questo reintegro delle somme necessarie a coprire l'intero importo delle borse di studio. Questa Regione ha un elemento di vanto nella sua prestazione perché copre da sempre tutte le richieste di borse di studio per gli studenti del diritto allo studio e vorremmo mantenere alto, mantenere questo livello di prestazione. Quindi monitoreremo e vorrei rassicurare gli studenti perché il Consiglio regionale e la Commissione Quinta saranno attenti a questa loro esigenza. è emerso anche un altro dato significativo e cioè il calo di richieste di borse di studio che abbiamo paura vada di pari passo con il calo di iscrizioni all'università. Qualora fosse così abbiamo chiesto alla Giunta di monitorare questo elemento e di eventualmente insieme all'azienda per il diritto allo studio farsi promotrice di progetti che sostengano la richiesta di iscrizione all'università. Noi abbiamo votato contro perché abbiamo riscontrato diverse criticità. La più importante è il fatto che la Giunta regionale, mi sono portata al foglio per non sbagliarmi, ha ridotto i contributi di 700 mila euro per il 2022, di 7 milioni e 4 per il 2023 e di 12 milioni e 575 mila euro per il 2024, che sono tanti soldi che vanno a scapito delle borse di studio e anche dei ricavi dell'azienda. Ora si è impegnata a ricercare questi soldi, però ancora, ora in questo momento non ci sono. Altre criticità sono la mancanza della certificazione antincendio in diverse residenze degli studenti che non sono state messe a norma e che si spera che verranno fatte. Ci hanno promesso entro il 2024 ma i tempi poi chissà se saranno rispettati. Infine che c'è da dire? C'è da dire che continuano a crescere i costi unitari per i vari servizi. E infine voglio ricordare che la soddisfazione degli studenti in un sondaggio che hanno fatto risulta il 6,36%, quindi appena sopra la sufficienza perché è su 10, il 6,36% su 10 e mi sembra un po' bassa. E per ultimo voglio ricordare che il Parlamento degli studenti continua a dire che ci sono criticità tra le tre università, in particolare per quanto riguarda i trasporti e la sanità, cioè riscontrano differenze in questi due settori. L'ospedale di Bibbiena, unico nella vallata del Casentino, continua a lamentare alcune significative carenze di personale che ne penalizzano l'operatività. Così Marco Casucci, consigliere regionale della Lega, che è tornato sull'argomento presentando un'interrogazione. Ho depositato, io direi, l'ennesima interrogazione che infatti ho intitolato in merito alle persistenti carenze di personale dell'ospedale del Casentino. Sono seriamente preoccupato sullo stato di cose. Ora sappiamo che sta per essere chiusa il reparto Covid-19 all'interno dell'ospedale. Dovrebbe essere a fine mese e noi chiediamo che possa ritornare allo stato iniziale dei riparti di chirurgia e di medicina. In medicina siamo seriamente preoccupati perché sappiamo che il personale è carente, il personale è medico, in particolare dopo che c'è stato un altro pensionamento a fine febbraio. Il pensiero poi va al futuro pensionamento del primario di chirurgia e noi chiediamo con la nostra interrogazione se per chirurgia rimanga l'unità operativa complessa oppure ci sia un'unità operativa semplice. Noi chiediamo che rimanga tutto così come è, anzi l'ospedale possa essere veramente potenziato. Rimangono poi tutta una serie di lacune che devono essere colmate. Le carenze per quanto riguarda l'ocopetista ma anche la neuropsichiatria infantile sono anni che sto mettendo in evidenza la carenza di questi servizi. Noi lo diciamo forte e chiaro l'ospedale del Casentino deve essere difeso, deve essere potenziato perché il Casentino merita una sanità veramente eccellente. Quattro carri realizzati con oltre 100.000 garofani multicolore, oltre 300 volontari e uno dei borghi più belli d'Italia che è tornato ad ospitare la sua manifestazione più rappresentativa, la Maggiolata Lucignanese. L'iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi in Consiglio regionale. Dopo le prime due uscite il sindaco di Lucignano Roberta Casini ricorda le prossime date. 29 maggio durante l'intera giornata da domenica e la chiusura il primo giugno torneranno a sfilare i carri, i nostri bellissimi carri fioriti per le vie del Borgo, uno dei borghi più belli d'Italia e questo allieterà la gioia di tanti. E vorremmo mandare anche un messaggio di speranza perché comunque in questo momento abbiamo bisogno anche di bei messaggi, quindi la tradizione e il futuro, questo è quello che abbiamo voluto inserire, la contemporaneità e la tradizione per poter tramandare anche all'esterno un messaggio davvero grande di pace, responsabilità e serenità. Finalmente, finalmente torniamo a vedere i nostri sorrisi, finalmente è possibile vivere queste iniziative anche senza mascherina nel rispetto alle regole che ci siamo dati ma con la voglia di tornare a vivere. La Maggiolata Lucignanese è uno degli eventi, l'evento della Val di Chiana in uno dei bordi più belli della nostra Toscana. Si incontra la voglia di far festa, il saper utilizzare i fiori, l'artigianalità e la manualità di tante donne, di tanti uomini che provano a far sorridere gli altri. È un evento bello, così bello che consiglio in questi giorni ai cittadini della Toscana di andare, di conoscere i nostri borghi, di andare a conoscere le nostre tradizioni e tutto questo avviene tra tradizione e contemporaneità. Questa arte che i volontari mettono in atto con tanto impegno tutto l'anno per poter arrivare a questo appuntamento e poter proporre questi carri che con i fiori danno delle immagini veramente suggestive. Quest'anno è una manifestazione speciale perché è quella della ripartenza dopo due anni di stop e quindi pensiamo davvero che possiamo quest'anno più di sempre pensare a rifiorire, a rinascere, a ridare un'opportunità di divertimento, di musica e di buona gastronomia. Quindi l'invito è veramente a vedere questa manifestazione, questa maggiolata che è veramente una perla e che quando uno l'ha vista ne rimane contagiato e tornerà anche nei prossimi anni. È tutto, questa era la nostra ultima intervista, grazie per la cortesia e attenzione, cronache e commenti torna la prossima settimana.